I motivi del cambiamento del lavoro rispetto ai nostri vecchi sono riconducibili sia alla politica che alla tecnologia. È chiaro che la generazione di mio padre che maneggiava tutto a mano aveva un peso sul lavoro non indifferente, nel senso che la resa del porto la facevi te con le tue mani, con le tue braccia. Oggi, se tu conti che hai i tempi di mio padre, uno sbarco di cellulosa, venivano giù 4 balle alla volta da 200 kg, oggi vengono giù 25 pacchi di 8 balle l'uno, fai il conto, il rapporto è 1 a 50, se non sbaglio, che ti piomba per terra. Senz'altro con meno fatica, ma devi lavorare su dei mezzi. Quindi, diciamo, il lavoro si è spostato sulla tecnologia, sulla velocità, sulla, diciamo, più comodità, quindi si è spostato dall'uomo alla macchina. Questo ha fatto perdere numeri di uomini, chiaramente, perché se contiamo che la compagnia di mio padre era 1.200, oggi siamo 200 mal contati. e poi, appunto, rimane il pericolo, perché chiaramente lavori sempre in mezzo a dei mezzi, a velocità, perché c'è sempre comunque, anche se non la riscontri, magari più nella busta paga del lavoratore, però c'è sempre il discorso velocità, perché la nave va a fretta, e quindi hai sempre roba che ti passa sulla testa, mezzi che ti passano a fianco. Il pericolo oserei dire che ha aumentato rispetto alla generazione di mio papà. Una cosa importante da dire è che noi, da la generazione di mio padre, dove lavoravano solo i portuali delle compagnie dentro il porto, piano piano, non repentinamente, ma piano piano, ci siamo trovati a lavorare fianco a fianco col personale dei terminalisti. Un esempio può essere dalle banchine di Orsero, dove noi facciamo, per un accordo locale, noi continuiamo a fare lavoro a bordo, a terra, dal ciglio banchina, ai capannoni, possiamo farlo noi insieme a loro, dipende da quanto personale serve, e dentro i capannoni c'è il personale dei terminalisti. Quindi questo accordo locale ci ha lasciato, diciamo, fra virgolette, non è più una riserva come una volta, ma una piccola esclusiva di lavoro a bordo, un misto da ciglio banchina e i capannoni, e di fatto dentro i capannoni, salvo casi eccezionali, operano il personale dei terminalisti. La nostra, come si dice, autogestione, lì viene condivisa con altri. Diciamo che rispetto alla generazione sempre di mio padre, prendi ordini da quelli, da gente, che per l'amore di Dio, che poi sono i nostri colleghi, i nostri amici, ma una volta al vecchio portuale fosse arrivato uno a dirgli metti un pezzo lì e probabilmente finiva in mare. Adesso condividi queste fette di lavoro con gente che è lì a guadagnarsi il pane come te, quindi l'organizzazione del lavoro è molto cambiata. A volte tu come portuale, chi è entrato non figlio di socio, magari non le denota queste cose. Chi come me ti è rimasto con l'affare di dire ma come questo qua nel mio porto viene a dirmi come fare. Ti è rimasto con l'orgoglio tramandato dai nostri padri di dire ma questo qui cosa vuole? Cosa che magari chi non è figlio di socio, perché c'è anche questo particolare, chi non è figlio di socio ha patito meno questi cambiamenti economici e organizzativi perché non ha il raffronto. Io poi addirittura essendo diciamo dei più vecchi della nuova generazione, ho anche visto proprio, ho assaggiato un po' di quei tempi là e quindi vedere questo avanzamento mi ha fatto ancora più male. però comunque io ho sempre un buon bilancio, dopo 25 anni ho sempre un buon bilancio, tornerei a fare il portuale anche a queste condizioni qua. Grazie. 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 Grazie.